A Satriano Marina, MedCenter, centro medico polispecialistico autorizzato dalla regione Calabria. MedCenter offre servizi di fisio-chinesi-terapia, riabilitazione, cardiologia, cardiologia pediatrica, medicina dello sport, ecografia multidisciplinare, ortopedia, fisiatria, visite endocrinologiche con il professore Enrico Pucci dell'Università di Pisa, test gratuito dell'udito. Il MedCenter è centro di riferimento in Calabria del Policlinico Sandonato di Milano. Per la cardiochirurgia, professora Alessandro Frigiola, primario cardiochirurgia Sandonato e professora Andrea Biondi, cardiochirurgo. MedCenter, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4 Satriano Marina, esperienza e professionalità al servizio della salute.